Chissà se mai a Roma o a Bari si aprirà un tavolo politico tecnico per prendere il toro per le corna, proprio come viene fatto per qualsiasi azienda o comparto in difficoltà. La sensazione però è che nonostante si sappia benissimo che i fatti stanno così, in pochi vogliano affrontare un problema che mieta ogni giorno vittime. Il mondo dell'editoria locale tutto è in crisi, non per propria colpa ma per effetto domino, eppure che si voglia guardare o meno i fatti. Questo vuol dire che solo in Puglia ci sono centinaia e centinaia di famiglie in cui non arriva più lo stipendio di un genitore. Quantificarli è addirittura impossibile visto che, ahinoi, ci sono ancora realtà a cui è consentito vivere, nonostante sfruttino con lavoretti malpagati e a nero, la necessità di portare il pane a tavola. Tante promesse nel corso degli anni, pochi fatti, e questo nessuno può negarlo. Perché, come vi abbiamo ripetuto fino allo sfinimento di tv e di giornali in Puglia, solo fino a tre anni fa ce n'erano un'infinità. Una vivacità di voce e punti di vista che oggi è morta sotto i colpi della crisi, lasciando dietro di sé solo disoccupazione, drammi familiari e una democrazia minata. Chi lavora in tv o per un giornale è un lavoratore come un altro, ma spesso di questo ci si dimentica. Negli scorsi mesi, in Consiglio regionale, è approdata una legge mirata a sostenere l'editoria locale, ma solo quella che consente posti di lavoro reali. La speranza è che la linea dura inizi davvero, perché chi permette che ci siano realtà che alimentano il lavoro nero non aiuta di certo il lavoratore, semmai chi lo sfrutta. Nelle scorse ore è stato il deputato Rocco Palese a sollecitare un veloce iter legislativo, supportando la proposta di attingere fondi di sostegno da quelli europei che, notoriamente, sono di enorme entità. Interventi straordinari, ha detto Palese, che possano salvaguardare posti di lavoro, imprese e testate locale storiche. Un intervento della politica, come accade per ogni grande azienda in crisi, non è più rimandabile. Ma il presidente di Selle, Michele Losappio, ha già proposto modifiche alla legge, al fine di escludere quelle che, per vie e traverse, possono far capo a sindacati o partiti politici, pur non essendo direttamente coinvolti nella proprietà. Una modifica che detta così ha l'area di essere incostituzionale. E di fatti è il Raffaele Lorusso, presidente di Assostampa Puglia, proponente del DDL a blindare la legge. Lo Sappio, dice Lorusso, dimentica che nel nostro paese esiste la libertà. Ebbene che ricordi che le testate di proprietà dei partiti politici sono automaticamente escluse da questa legge, perché prendono unicamente finanziamenti statali. Ciò che invece lui evoca si chiama censura. La nostra Costituzione, aggiunge Lorusso, dice chiaramente che la stampa è libera. Ciò significa che a tutti è consentito lavorarci, purché si rispettino le regole, oltre al fatto che ognuno può stabilire autonomamente la linea che ritiene più opportuna. Avere nelle proprietà, conclude il presidente di Assostampa, persone che possono essere riconducibili nella famiglia o nei contatti a sindacati e partiti, non è paragonabile ad essere stampa di proprietà del partito. Sentito sì direttamente chiamato in causa, interviene anche Paolo Pagliaro, presidente del gruppo Mixer Media. È uomo impegnato in politica con un proprio movimento che nulla ha a che vedere con l'autonomia della testata giornalistica composta da pene libere e indipendenti. Per il vendoliano, lo Sappio, esistono giornalisti e lavoratori di serie A e di serie B. Se l'editore è in politica, scrive Pagliaro, per lui l'impresa non potrebbe accedere alle misure di sostegno per l'editoria. Oltre ad essere un pensiero illiberale, anticostituzionale, antidemocratico, che offende e mina i valori dell'indipendenza e delle autonomie dei giornalisti, è uno schiaffo ai tanti operatori che, fra mille difficoltà e sacrifici, continuano con passione a lavorare e garantire informazione. E questa, conclude Pagliaro, la Puglia Migliore. Le misure di sostegno all'editoria pugliese e all'attenzione del Consiglio regionale sono non soltanto un atto dovuto nei confronti di un mondo del lavoro qualificato a grave rischio di depauperamento, se non di chiusura, ma anche di un supporto a un comparto decisivo per la vitalità e la crescita dell'intera comunità, scrive il consigliere regionale del PDL, Saverio Congedo. L'informazione è veicolo insostituibile di libertà e di cultura e nella nostra editoria si rispecchia e vive l'intera Puglia, che non può e non deve farne a meno, pena una drammatica retrocessione collettiva. Sosterremmo pertanto con convinzione le norme all'esame, conclude Ev Congedo, alla sola condizione che essa valgano per tutti, voci critiche del potere regionale comprese, senza inaccettabili discriminazioni comunque motivate. La promessa che il presidente del Consiglio in Torona fece al momento della presentazione della legge era quella di far presto, anche perché è di tempo, se ne è già perso troppo.